Io credo che Stina sia stato bravo il Chievo perché doveva togliere velocità ai loro fraseggi e grazie all'applicazione e alla voglia di tutti di non dare questa velocità abbiamo concesso poco e ripeto, perché dopo sullo 0-0 l'occasione più grossa l'abbiamo avuta noi. Insomma siamo andati sotto per un gran gol di Insigne, per un gol un po' rocambolesco però contro il Napoli ci sta. Nel primo tempo purtroppo invece abbiamo sbagliato spesso il primo passaggio, il passaggio in uscita e quello ha condizionato la partita perché poi se tu sbagliando il primo passaggio ti concedi troppo all'avversario poi vai a fare una partita di attesa e di sofferenza. Potevamo riaprire la partita sul 2-0. Purtroppo è venuto 3-0 un autorete che ha condizionato un po', sembrava che aver chiuso la partita invece non l'ha chiusa per nulla, anzi noi credo che poi abbiamo fatto il 3-1, abbiamo creduto ancora abbiamo avuto una serie di occasioni. Quando giochi contro squadre di questo calibro qualche episodio ti deve essere anche un po' favorevole credo che senza attaccarci agli episodi però credo che oggi nella virgola non ci è andata bene. Ho sentito a tratti non capire che di fronte avevamo il Napoli, che il mercoledì scorso ho giocato contro il Real Madrid un ottavo di finale e è normale che tante volte queste squadre qualche volta possano anche metterli in condizioni di difendere. Non ricordo tantissime parate di Sorrentino in tuffo che abbia fatto l'ordinaria amministrazione mi sembra, magari scordo qualcosa perché poi rivedere la partita. Questo vuol dire molto. Ripeto, dopo se avessimo anche sbagliato meno nell'uscita, nel primo passaggio però anche questo, ripeto, c'è anche del merito del Napoli perché loro sulla prima pressione sono dei fenomeni. Grazie.